Ieri è stata una festa della Repubblica senza precedenti nella storia italiana. Il presidente Mattarella dopo aver deposto una corona ai piedi dell'altare della patria si è recato a Codogno per rendere omaggio alle tante vittime di un paese divenuto il simbolo della pandemia. Ma è stata anche la giornata delle manifestazioni di protesta. Il centrodestra è sceso in piazza. Facciamo nostro l'appello di Mattarella alla coesione, ma il governo non ci ascolta. Le parole di Matteo Salvini. A mezzanotte è scattata la fase 3 con la possibilità di tornare a spostarsi anche al di fuori della propria regione e nei paesi dell'area Schengen. Confermati e rafforzati controlli della temperatura con i termoscanner in aeroporti e stazioni con l'obbligo di isolamento domiciliare per chi ha febbre oltre i 37 gradi e mezzo. La Cina avvertì con colpevole ritardo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sui rischi di una pandemia da coronavirus. L'agenzia di stampa Associated Press è entrata in possesso di documenti che provano come Pechino abbia ostacolato il lavoro di prevenzione dell'organizzazione. Intanto a Wuhan, dove tutto ebbe origine, il numero dei contagi è sceso a zero. Continua negli Stati Uniti l'ondata di proteste e violenze scatenate dall'uccisione a Minneapolis di George Floyd da parte di un agente di polizia. Neanche il coprifuoco è impedito nella notte a New York e in molte città i ripetersi di scontri e saccheggi. Trump, attaccato dal suo avversario e le prossime presidenziali, Joe Biden, continua a minacciare l'intervento dell'esercito per sedare le rivolte. Buongiorno e benvenuto alla prima edizione del telegiornale. Della 7 l'Italia riparte da Codogno, qui c'è il paese del coraggio. Queste le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che ieri ha voluto celebrare la festa della Repubblica proprio nel paese da cui tutto è partito, da cui tutto è iniziato con il paziente 1 e poi con la zona rossa. Un nuovo appello da parte di Mattarella alla coesione e all'unità ha detto per ripartire serve l'impegno di tutti, nessuno deve tirarsi indietro. Ma ripercorriamo la giornata di ieri. È iniziato con l'omaggio all'altare della patria a Roma, il 2 giugno, del capo dello Stato Sergio Mattarella, insieme ai presidenti di Camera e Senato. La deposizione di una corona dall'oro al monumento del limite ignoto, le frecce tricolore. Poi a Codogno, comune simbolo dell'emergenza sanitaria in Lombardia, dove è stato scoperto il primo caso italiano al 21 febbraio e diventato ieri il cuore della festa della Repubblica in tempo di coronavirus. Gli applausi di tanta gente all'arrivo nella sede del comune, accolto dal governatore Fontana e dal sindaco Passerini, il presidente Mattarella ha ascoltato le parole rotte dall'emozione di una sottotenente del corpo delle infermiere volontarie, quando lo ha ringraziato per la visita in questo territorio così duramente provato dall'epidemia. A loro i coraggiosi, soprattutto quelli che, ha detto il presidente, hanno curato tutti. Senza chiedere chi fossero, quali idee professassero, il capo dello Stato ha rivolto ancora una volta il suo grazie per la generosa abnegazione a chi è rimasto anche vittima del proprio senso del dovere. È da qui che parte la rinascita del paese, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, l'Italia della solidarietà, della civiltà e del coraggio, ha detto il presidente della Repubblica. In questi luoghi si ritrova oggi la Repubblica. Da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro paese, facendo appieno il nostro dovere, ognuno per la sua parte. Durante i mesi del lockdown si è manifestato un patrimonio morale, spesso sommerso, che va fatto emergere, che va esaltato, ha detto Mattarella. Il capo dello Stato ha poi deposto una corona di fiori al cimitero di Codogno per ricordare tutte le vittime del coronavirus. Il 2 giugno del presidente si è concluso a Roma con il concerto organizzato dall'ospedale Spallanzani, istituto divenuto simbolo della lotta al coronavirus. E intanto, mentre da Codogno Mattarella richiamava all'unità a Roma si svolgevano una serie di manifestazioni di protesta proprio contro il governo. In primo luogo il centrodestra che è sceso in piazza la mattina, ci sono state altre manifestazioni in 70 città. A Roma quello che doveva essere un flash mob poi in realtà si è trasformato in un corteo con la mancanza anche del distanziamento sociale che ha creato molte polemiche. Poi a seguire sono scesi in piazza, sempre a Piazza del Popolo, anche i gilet arancioni e il Partito Comunista di Marco Rizzo. 2 giugno 2020, già particolare per il dopo emergenza virus, anche un'altra faccia oltre ai riti istituzionali. Infatti il centrodestra scende in piazza in 70 città per manifestare contro il governo, un lungo flash mob che è anche l'anticipo di quella che sarà un'altra manifestazione già convocata per il 4 luglio. E poi si vedono di nuovo anche i gilet arancioni guidati dall'ex generale Pappalardo che invitano il popolo a ribellarsi, mettono nel mirino anche il capo dello Stato e contestano la effettiva pericolosità del Covid-19. Le forze di maggioranza attaccano i cortei per le strade della capitale, per il mancato rispetto del norme di distanziamento sociale e parlano di irresponsabilità di Salvini e Meloni. Se ne sono fregati di sacrifici di milioni di italiani. Da registrare anche una polemica per una conversazione tra manifestanti con insulti al capo dello Stato, un episodio dal quale Salvini, Meloni e Tajani prendono subito le distanze. Sullo striscione di 500 metri che il centrodestra srotola nel centro di Roma, si legge, l'Italia non si arrende. E Salvini dice, siamo qui a nome degli italiani dimenticati in questi mesi e discriminati. C'è un pregiudizio nei confronti del privato, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Invece non ci possono essere lavoratori italiani dimenticati. Noi facciamo anche proposte. Giorgia Meloni attacca il governo Conte. Sottovaluta il disagio sociale. Noi no. E torna a chiedere le elezioni. A dover affrontare la crisi economica, aggiunge Meloni, deve essere un governo scelto dai cittadini che non debba scendere a compromessi e possa durare cinque anni. Il numero due di Forza Italia, Tajani invece, usa parole più prudenti. Serve a una visione condivisa. Non abbiamo nessun intento divisivo, ma vogliamo fare proposte concrete per dimostrare ai tanti italiani in difficoltà che non sono soli. In piazza, sempre a Roma, anche il partito comunista di Marco Rizzo. Mascherini indosso e divieto di assembramento rispettato. A marcare le differenze tra la politica seria e quella ciarlatana, dice Rizzo. Nel mirino c'è sempre il governo che Rizzo definisce forte con i deboli, come i Cassi Indicrati, e debole con i forti, come FCA. Mentre il Premier Conte prepara un discorso che terrà questa sera in televisione a famiglie e imprese, oggi parte la fase 3. Ci si può spostare liberamente tra le regioni che si stanno organizzando anche per accogliere i turisti. Per la verità, le posizioni dei governatori erano diverse. Comunque, fatto sta che oggi si parte e si riaprono anche le frontiere con l'estero, in particolare con l'area Schengen. Facciamo il punto. Via Libera alla fase 3. L'ultima grande barriera del lockdown è caduta alla mezzanotte di ieri con la fine del divieto di spostamento tra le regioni e trasferimenti senza distinzioni sul territorio nazionale. Con il sacrificio di tutti torniamo a questa nuova normalità, ha detto il Ministro Boccia, ma non dimentichiamo gli oltre 33.000 italiani che non ci sono più e il lavoro degli operatori sanitari nel momento dell'emergenza. Ora è il momento di pensare alla ripresa dell'economia e alla protezione dei posti di lavoro. Le regioni si sono preparate in ordine sparso e non sono mancate ancora le critiche. Il governatore della Toscana Rossi era favorevole al rinvio di una settimana. Il presidente della Campania De Luca ha definito incomprensibili le ragioni di un'apertura generalizzata anche dalle zone interessate maggiormente dal contagio. Di contro, in Veneto, Luca Zaia auspica un rapido ritorno ad una mobilità pubblica normale. Restano ovunque i divieti di assembramento e le precauzioni sul distanziamento sociale. L'obbligo delle mascherine è anche all'aperto in alcune regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Campania. Continuano gradualmente le riaperture di musei e policulturali sia pure con ingressi contingentati. Oggi a Firenze tocca agli uffizi. Proseguono e saranno rafforzati i controlli della temperatura con i termoscanner in aeroporti e stazioni con obbligo di isolamento domiciliare per chi ha febbre oltre 37 gradi e mezzo. Da oggi in linea di principio si può tornare a viaggiare nei paesi dell'area Schengen mentre per gli spostamenti nel Regno Unito bisogna mettere in preventivo almeno due settimane di quarantena. E poi c'è la questione dell'app Immuni che è già stata scaricata da circa mezzo milione di italiani ed è uno degli strumenti per controllare l'andamento dell'epidemia. Epidemia in cui i dati ci raccontano di una curva che continua ad essere come dire stabile anche se c'è stato un leggero aumento dei nuovi positivi ma naturalmente sappiamo che i dati vanno visti nel corso dei giorni e intanto anche se in America Latina la situazione è molto preoccupante ci sono dei paesi come il Brasile ad esempio dove ancora non si è raggiunto il picco dei contagi ma già si pensa a riaprire. 318 nuovi casi in Italia 55 decessi meno di 40.000 le persone attualmente contagiate e di queste poco più dell'1% esattamente 408 sono ricoverate in terapia intensiva 16 in meno rispetto al giorno precedente i numeri di ieri ci dicono che il coronavirus sta indietreggiando altro dato positivo non ci sono state vittime in ben 8 regioni Valle d'Aosta Piemonte, Marche, Umbria Molise, Basilicata Calabria e Sardegna ed anche nella provincia di Bolzano grosse le differenze tra le regioni la Lombardia ha registrato 187 nuovi casi con 12 morti il 58,8% di tutti i nuovi contagi tra le altre regioni più colpite dal coronavirus l'incremento è di 57 casi in Piemonte 19 in Emida Romagna 15 in Liguria ma in tutto il mondo le cifre continuano a fare paura oltre 376.000 le vittime con 30.000 morti in Brasile che malgrado non abbia raggiunto il picco ha deciso di riaprire 10.000 in Messico aumenta il bilancio anche in Francia 107 i morti nelle ultime 24 ore in 13 giorni per la prima volta si è superato il 100 con un totale di 28.940 in Olanda da ieri altri 6 ricoveri e 5 nuovi decessi che salgono così a 5.967 la Russia ha superato i 5.000 morti con i 182 registrati ieri con oltre 423.000 casi è il terzo paese al mondo più colpito dal virus dietro a Stati Uniti e Brasile negli Stati Uniti ieri sono stati 743 nuovi decessi che portano il bilancio totale delle vittime della pandemia nel paese a 105.099 intanto in Cina Wuhan dove è partita l'epidemia si è raggiunto il tanto atteso contagio zero che è stato verificato attraverso uno screening accurato della popolazione a proposito della Cina l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata accusata in particolare da Trump in queste ultime settimane di averla coperta di aver agito in ritardo e soprattutto di aver gestito in maniera disastrosa l'emergenza coronavirus ma un'inchiesta della Societet Press racconta una realtà diversa vediamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia globale da Covid-19 tre mesi fa era l'11 marzo e il virus si era diffuso in tutti i continenti 118.000 contagi accertati 4.200 le vittime numeri irrisori il peggio doveva ancora arrivare oggi casi nel mondo sono più di 6 milioni oltre 376.000 i morti l'OMS è agito in ritardo ha coperto la Cina attaccò subito Trump accusando apertamente l'organizzazione il suo direttore Gabriel Jesus di aver gestito l'emergenza in maniera disastrosa sottovalutando la reale portata del virus e di aver deliberatamente coperto Pechino colpevole a sua volta di ritardi di omissioni costati la vita decine di migliaia di persone un'inchiesta dell'associated press racconta però un'altra verità che scagiona in parte l'OMS ma non la Cina l'agenzia giornalistica americana è entrata in possesso di documenti top secret che dimostrerebbero la cattiva fede di Pechino non solo per i ritardi nel comunicare l'evoluzione dell'epidemia ma soprattutto per la questione del genoma ossia la mappatura del virus essenziale per cure vaccini secondo la P la presenza del coronavirus a Wuhan fu mappata per la prima volta già il 27 dicembre del 2019 in diversi laboratori ma nulla trapelò tanto che ancora il 5 gennaio i cinesi e anche l'OMS negavano i rischi del contagio la realtà lo sappiamo era ben diversa e un sospetto l'hanno avuto anche gli scienziati dell'OMS che però non ottennero le informazioni che volevano da Pechino anche la richiesta di Ghebreyesus di avere il genoma del virus cadde nel vuoto un groviglio di ritardi e incompetenze che ha messo in crisi l'OMS gli Stati Uniti primo finanziatore con 400 milioni di dollari l'anno prima hanno sospeso i fondi e poi la scorsa settimana minacciato di rompere ogni tipo di rapporto con l'organizzazione che invece ha ricevuto più fondi dalla Cina ma ha manifestato il desiderio di continuare a collaborare con Washington Anthony Fauci si è detto contrario alla mossa di Trump l'OMS non è perfetta ma ne abbiamo bisogno ha detto il capo virologo della Casa Bianca anche perché ha aggiunto non c'è nessuna prova che il virus stia perdendo forza Ennesima nottata di violenza negli Stati Uniti dove continuano le proteste che sono diventate ancora più forti dopo che l'autopsia ha stabilito che George Floyd è morto per soffocamento saccheggi e devastazioni in molte città in particolare presa di mira New York dove anche il coprifuoco sembra non servire intanto Joe Biden attacca il presidente americano Trump Da New York a Washington da Atlanta a Louisville le proteste non si fermano nella grande mela è stato imposto il coprifuoco sarà vietato circolare in strada dalle 8 di sera alle 5 del mattino fino al 7 giugno contro le autorità locali si è scagliato Donald Trump se non accettano la guardia nazionale la manderò io ha detto e se necessario interverrà l'esercito per fermare la feccia che sta devastando le città e l'ordine del presidente che è anche il comandante in capo delle forze armate è diventato subito esecutivo il portavoce del dipartimento della difesa ha confermato che il Pentagono ha spostato circa 1600 soldati in alcune basi militari nell'area di Washington per fornire un eventuale sostegno un vero e proprio braccio di ferro dunque quello tra i manifestanti e Donald Trump ad infiammare ancora di più gli animi e le parole della madre di Gianna alla figlia di Floyd George non la vedrà mai crescere laurearsi e non lo accompagnerà mai all'altare alle accuse di razzismo il presidente ha replicato ricordando di avere fatto di più per la comunità nera di qualsiasi altro presidente dopo Abramo Lincoln dopo la passeggiata davanti alla chiesa dei presidenti con la bibbia in mano poco fa Trump ha voluto commemorare il capitano della polizia di St. Louis David Dorn ucciso la scorsa notte ha scritto da spregevoli saccheggiatori onoriamo i nostri agenti di polizia forse più di prima grazie anche dalla first lady Melania è arrivato un appello tutte le città le comunità e i cittadini hanno il diritto di essere tenuti al sicuro ha twittato e questo può essere fatto solo se lavoriamo insieme verso la riconciliazione e la pace è il momento per l'America di esaminare i suoi tragici fallimenti ha detto l'ex presidente Bush dichiarazioni cui hanno fatto seguito quelle di Joe Biden il candidato Demma la Casa Bianca che ieri si è giudicato alle primarie del Rhode Island che parteciperà ai funerali di Floyd ha definito Trump un poliziotto razzista parole che hanno provocato la dura reazione di Trump il sonnolento Biden è in politica da 40 anni e non ha fatto niente ora pretende di avere le risposte non sa neanche le domande intanto in Italia il mondo del calcio ha deciso di aderire al Blackout Tuesday nel ricordo proprio dell'uccisione di George Floyd Un'adesione totale ma soprattutto spontanea anche il mondo del calcio ha voluto aderire al Blackout Tuesday per ricordare la scomparsa di George Floyd ucciso lo scorso 25 maggio da un poliziotto a Minneapolis ognuno ha scelto un modo tutto suo per unirsi alla lunga ondata di commozione l'attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale inglese Jadon Sancho dopo il gol nel 6 a 1 inflitto al Paderborn nella sfida di Bundesliga ha scoperto una scritta in cui chiedeva giustizia per Floyd il francese del colonia Anthony Modest dopo la rete realizzata all'Ipsia ha invece usato le mani per creare l'effetto cromatico del bianco e del nero quale simbolo di pace e unità tra razze differenti il suo connazionale Marcos Turan attaccante del Borussia Munchen-Glabach invece dopo il gol realizzato all'Union di Berlino si è inginocchiato in una sorta di raccoglimento in memoria del 46enne afroamericano e proprio questo è divenuto il simbolo della protesta mutuato un po' ovunque queste sono le immagini provenienti dai campi di allenamento inglesi del Liverpool e del Newcastle in un silenzio assordante anche da noi molte squadre quali Roma Torino e Atalanta si sono inginocchiate onorando la memoria di George Floyd mentre il presidente dell'Inter Zang e i giocatori di Juventus e Milan hanno pubblicato dei post a sfondo nero e privi di qualsiasi scritta intanto la FIFA tramite il suo presidente Gianni Infantino ha chiesto di tributare applausi non sanzioni a tutti quei calciatori che in Bundesliga hanno manifestato solidarietà in campo per i tragici fatti di Minneapolis tornando in Italia i medici sociali delle 20 squadre di A temono infortuni a catena in questo tour de force finale del campionato con 124 partite da giocarsi in 43 giorni senza contare le due semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia la ventilata ipotesi di una riapertura seppur parziare degli stadi alle tifoserie trova invece d'accordo il virologo Matteo Bassetti secondo cui se il governo ha permesso la riapertura di cinema e teatri potrebbe farlo anche con i campi di calcio mentre il professor Vincenzo Salini primario del San Raffaele di Milano nonché medico sportivo lega la possibile revisione del protocollo riguardante la quarantena nel caso di positività di uno o più giocatori all'evolversi della situazione stessa una volta che il campionato avrà ripreso la sua marcia senza escludere però lo stop definitivo è morto ieri a Milano a 82 anni Roberto Gervaso il popolare giornalista e scrittore autore insieme a Indro Montanelli della storia d'Italia di numerose biografie di personaggi storici con Cagliostro nel 1973 si aggiudicò il premio Bancarella appassionato di aforismi che aveva raccolto in alcuni volumi scrisse su numerose testate dal Corriere della Sera al Messaggero ma fu noto al grande pubblico anche come personaggio e conduttore di programmi televisivi il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha ricordato come un uomo di finissima cultura protagonista per lunghi anni del giornalismo e della vita culturale del nostro paese ed è tutto per questa edizione il telegiornale torna alle 13.30 adesso le informazioni sulla viabilità e poi a seguire le previsioni del tempo con Palo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni vi auguro una buona giornata di Omnibus